buongiorno a tutti sono alessio martinelli del team martinelli remaster la porale group oggi 17 luglio e sant'alessio stavo prendendo un caffè con andrea il nostro videomaker perché oggi siamo a triggiano vi faccio un regalo oggi vi mostreremo un appartamento di tre vani con due bagni e posto auto nella zona nuova di triggiano quella a due passi dai carabinieri a due passi sta nascendo il nuovo palazzetto dello sport è vicinissimo la nuovissima strada che ci collega bari bari blu e anche per chi vuole rapidamente raggiungere il mare seguitemi ben arrivati come promesso oggi vi mostreremo questo appartamento sito al secondo piano costruito nei primi anni 2000 quindi in buone condizioni è già abitabile da subito fate caso alle definiture come detto prima ci sono due bagni io vi aspetto per mostrarvi dopo la picca della casa ciao 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 Scommetto che vi sta piacendo e l'immobile vi piacerà ancora di più grazie a questo fantastico terrazzino in parte chiuso, quindi potete utilizzarlo e viverlo sia in estate ma anche in inverno da qui si intravede anche il mare, chiamate perché questa casa sta aspettando solo voi